Carpaccio di polpo, metto il vino, il sale, il pepe in grani, l'alloro, lo scalogno ed un tappo di sughero in una pentola con acqua bollente, poi aggiungo il polpo e per far arricciare i tentacoli grazie allo shock termico lo tolgo e lo metto in acqua per 6-7 volte e poi lascio cuocere per circa 40 minuti, dopo di che spengo e lascio riposare per un'ora, a questo punto taglio una bottiglia rotonda, divido il polpo a metà e taglio i tentacoli, taglio la testa ed inizio a riempire la bottiglia con i tentacoli pressando man mano che li inserisco, verso la metà metto la testa e finisco aggiungendo gli altri tentacoli, alla fine schiaccio bene e rimuovo il liquido in eccesso, poi chiudo la bottiglia, avvolgo nella pellicola e metto in frigo per almeno 12 ore, dopodiché lo tolgo delicatamente dalla bottiglia, lo affetto, sarebbe meglio usare una affettatrice e lo condisco a piacere. mamma mia, squisito, io vi saluto e vi auguro buon appetito, paccheri all'essenza di cedro con gambero rosso e limone, una ricetta divina, fatela con me, iniziamo, dopo aver pulito e sgusciato i gamberi metto l'olio in pentola, aggiungo gambetti di prezzemolo ed aglio, metto teste e carapaci che ho sciacquato più volte, schiaccio con un batticarne, dopodiché sfumo con il vino bianco ed una volta evaporato metto i pomodorini, regolo di sale ed aggiungo il ghiaccio in modo che lo shock termico possa far rilasciare al meglio i sapori, sciolto il ghiaccio metto l'acqua e faccio cuocere per 35 minuti dal momento del bollore, quando la bisque sarà pronta la filtro e la riporto sul fuoco, nel frattempo metto il burro in padella, aggiungo l'aglio ed una volta dorato lo tolgo e metto i gamberi a pezzetti, faccio cuocere per 30-40 secondi, spengo, grattugio un po' di buccia di limone e quando la bisque bolle metto a cuocere la pasta, poi la trasferisco in padella un minuto prima della fine della cottura e faccio finire di cuocere ed insaporire mescolando e facendo saltare, aggiungendo man mano il succo di limone e la bisque solo all'occorrenza, quando la pasta sarà al dente spengo e grattugio ancora un po' di buccia di limone, prezzemolo fresco e... buon appetito! Se volete delle seppie tenerissime e saporitissime fate questa ricetta con me, esquisita! Iniziamo! Per prima cosa taglio grossolanamente la seppia dopo averla pulita e sciacquata bene, poi taglio finemente la cipolla, taglio uno spicchietto d'aglio, metto l'olio in un tegame o una padella alta, aggiungo aglio e cipolla ed una volta rosolati metto la seppia e faccio cuocere a fiamma molto alta per una decina di minuti, il tempo che occorrerà a far rilasciare l'acqua e a farla asciugare bene. A questo punto sfumo con il vino bianco, evaporato l'alcol aggiungo la salsa, il doppio concentrato di pomodoro, regolo leggermente di sale, copro e faccio cuocere per 50-55 minuti a fiamma bassa, poi spengo e metto il prezzemolo, un po' di pepe, ultima mescolata ed ecco qui, filo d'olio, prezzemolo e... Esquisita! Scazzuoppoli alla Nutella, ma che delizia, facciamoli insieme. Iniziamo! Ingredienti per due persone, 250 g di farina, 5 g di lievito di birra fresco, 150 ml di acqua a temperatura ambiente ed inizio ad impastare con il cucchiaio, poi lavoro l'impasto a mano per una decina di minuti, poi copro con un canovaccio e faccio lievitare in un luogo caldo per 6-8 ore. Ora passo l'impasto su una spianatoia infarinata, lo stendo lasciandolo spesso circa un centimetro e mezzo e con una rondella tagliapizza faccio delle strisce e poi ne ricavo dei pezzetti irregolari, frigo in abbondante olio di semi di arachidi già caldo e faccio cuocere finché saranno dorati, poi li tolgo e li metto su carta assorbente, li passo in un piatto da portata, metto la Nutella, zucchero a velo e guardate qui!